amiche amici ben ritrovati con i programmi di rossini tv oggi come vedete siamo qua in studio ma abbiamo una delegazione fanese perché dobbiamo presentarvi un evento bellissimo ormai tradizionale che si svolge ogni anno e che dà un po come dire l'avvio al cuore dell'estate degli eventi di ferragosto dal 10 al 14 di agosto avrà luogo birra d'augusto sotto le mura malatestiane quindi abbiamo qui il presidente dell'associazione fortuna dea alessandro bendia e il vice presidente alessandro eusepi a cui vogliamo chiedere tutte le novità dell'edizione birra d'augusto 2024 alessandro e alessandro benvenuti allora grazie presidente quali sono le novità imperdibili per venire a visitare birra d'augusto allora innanzitutto cominciare a dire che questa è la 14esima edizione 14 edizione per noi è la sesta edizione perché abbiamo ereditato la festa da un'altra associazione e per il terzo anno consecutivo finalmente adesso lo possiamo dire siamo nella stessa location quindi saremo alla zona della rocca malatestiana di fano e quindi quest'anno abbiamo consolidato il posto e continuiamo lì mi sembra una bella idea anche perché lo spazio è bello ampio arioso e c'è lo spazio per tutte queste tutti questi stand dei birrifici ricordiamo artigianali italiani poi alcuni anche spazi dedicati al cibo nonché un palco per la musica esatto presidente vogliamo ringraziare qualcuno che è stato diciamo come dire responsabile della buona realizzazione dell'ideazione e della realizzazione di questo evento sì assolutamente abbiamo bisogno e la necessità di ringraziare confesercenti che nostro partner e collaboratore ormai da quasi quattro anni quest'anno è il quarto anno effettivo poi abbiamo dobbiamo ringraziare il comune di fano l'assessorato al turismo e grandi eventi il supporto della regione marche e il gran contributo della pro loco fa non fortuna senza le quali senza questi enti sarebbe molto complicato gestire e realizzare una una manifestazione come questa e ci ci tengo anche a ringraziare veramente tanto i nostri sponsor che quest'anno anche quest'anno si sono fatti avanti per aiutarci e sono la bcc di fano l'aset no panic scaffalature daptec e giro maripoint mi sembra giusto e doveroso perché con il loro supporto si possono realizzare 20 ancora più ricchi diciamo che la fantasia si può sbizzarrire un po di più assolutamente sì tante tante cose e le vogliamo scoprire una alla volta iniziamo quindi dalla prima giornata allora comincieremo la prima giornata abbiamo pensato di non creare un evento in particolare perché diamo il via alla festa e quindi faremo godere un pochettino a tutti di quelli che sono tutti gli spazi e come prima novità avremo un picco una piccola aria che si chiama bir relax adesso non svegliamo perché si chiama bir relax però lo sveglieremo nel corso dell'intervista partiamo dal primo momento culturale che sarà l'undici quindi domenica undici alle ore 20 nella nostra area culturale abbiamo pensato di fare per quest'anno il primo contest di home brewing e l'abbiamo nominato domus birre contest per essere perfettamente adeguati alla città di augusto perché ricordiamo che adesso non sappiamo se proprio augusto in persona bevesse birra ma è un prodotto comunque che era conosciuto già nell'antica roma non poteva competere con il vino però insomma c'era anche chi apprezzava la birra diciamo che gli dava una bella mano che cos'è l'ombrewing l'ombrewing è praticamente sono dei produttori casalinghi di birra fatta in casa quindi l'idea è quella di portare chi fa la birra in casa a farla ad assaggiare a dei giudici che sono dei giudici d'eccezione quindi avremo due persone due tecnici diciamo così e tre persone che invece faranno quella che si chiama la giuria popolare mi diciamo anche chi sono i nomi allora una una dei nostri tecnici si chiama nicoletta tagliabraci dovresti conoscerla più o meno dimmi se sbaglio sei ambasciatrice per le marche dell'enogastronomia territoriale è vero giusto dopodiché abbiamo thomas luzzi che è un bir sommelier ed è anche il titolare del barcavur di fano gli altri tre voti abbiamo pensato di fare intervenire come giuria popolare tre un rappresentante per ogni nostro come si dice amico delle delegazioni sostenitore quindi sarà un uno della regione una persona della regione uno del comune e uno dei confesercenti tutti e tre confluiranno in un unico voto e faranno quello che la giuria popolare quindi non esprimendo un giudizio tecnico ma quello che a proprio gusto la birra che è più piaciuta che a volte potrebbe essere anche quel giudizio come si dice a pelle in questo caso il giudizio di mancia però ecco quello che potrebbe essere proprio il giudizio più sincero cioè è buono non è buono vogliamo ricordare i termini per la presentazione ai nostri telespettatori magari se ci fosse qualcuno in ascolto che ha piacere di presentare le birre che sta preparando in garage in cantina o nella vasca da bagno magari ha tempo anche di presentare la propria creatura e vedere se rispecchia un po i canoni se ci sono dei consigli da dare se quella potrebbe essere anche la strada percorrere come secondo lavoro non si sa mai di sicuro come come hobby sicuramente allora i tempi li abbiamo fino al 9 di agosto e il regolamento e per iscriversi è sul nostro sito che è www.birradaugusto.com ci sarà un form da compilare e poi verrete contattati da uno dei nostri delegati dell'associazione per per tutte le informazioni poi per quel giorno facilissimo amici avete preso nota bene ok e questo qui diciamo che intanto l'abbiamo già la novità una delle novità una delle novità l'abbiamo spiegata ok poi poi abbiamo il 12 e il 14 agosto quindi lunedì e mercoledì sono sono sul gioco quindi l'abbiamo dedicati al gioco al gioco in scatola ci sarà l'associazione in scatolarci di fano che verrà a presentare il 12 un torneo di azul e in contemporanea su entrambi i giorni ci sarà un tavolo o più tavoli quindi vediamo quanta quante persone ci saranno per giochi in scatola sulla birra quindi l'idea è quella di si godersi la festa la buona musica il buon cibo buone birre ma anche quello di me potersi mettersi seduti anche con il proprio nipote col proprio figlio e giocare che non è cosa da poco insomma poi veniamo alla giornata alla serata del 13 di agosto dove ci sarà un momento di approfondimento culturale e il titolo è il bello della birra e i falsi miti da sfatare questa questo momento sarà curato dall'associazione delle donne della birra e nelle persone di nicoletta tagliabracci che penso tu mi sembra di averla sentita prima se è la stessa di prima è sempre la stessa persona esatto e federica russo la mia carissima amica socia birre sommelier federica russo sì che ripercorreranno l'uso della birra nella cosmesi e nel corso del nel corso della storia e proseguiranno con un approfondimento sui miti da sfatare della birra e qui e qui amici vi avevo promesso grandi novità e adesso ritorniamo a quello che avevamo lasciato in sospeso prima e questa è la seconda novità di quest'anno la seconda novità è proprio perché con l'aiuto tuo nicoletta e abbiamo pensato di lanciare è una piccola linea cosmesi diciamo per qualche giorno con dei prodotti alla birra mai sento a ci siamo così parlare ai sentori di birra non alla libera mente giusto ai sentori che è ancora più interessante ok e abbiamo abbiamo una crema corpo che è questa esatto uno spray corpo dopo sole e uno de parfum che è questo qua possiamo aprire certo apriamo perché la scatola è molto graziosa però amici vorrei ricordarvi anche che qualora quando verrete a fano potrete trovarli anche in vendita quindi edizione limitata per pochissimo tempo è una linea come dire io direi che originale è dir poco è vero ci saranno possono essere saranno in vendita per i cinque giorni della festa sia nell'area beer relax che dicevamo prima sia nel nello stand che dove ci sarà la piadina che è lo stand della nostra associazione e quindi faremo un pochino capo anche a quello la buono 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 zona beer relax però a questo punto dobbiamo dire che cos'è questa zona beer relax la zona beer relax è una una zona dove ci sarà una ragazza che farà provare la crema corpo facendo dei massaggi quindi chi vorrà potrà andare a fare un massaggio che può variare dai 10 ai 45 minuti quindi quello ognuno sceglie come si sente in quel momento o semplicemente solo per provare la crema e quindi potrà passare dai 10 ai 45 minuti in totale relax facendosi massaggiare con la nostra crema corpo e questo sempre all'interno dell'interno dell'area della festa assolutamente va prenotata forse questa visita non c'è nessun bisogno di prenotare ci si avvicina all'area e insieme alla ragazza si si vede insomma i tempi se c'è la fila poi ci si ragiona un po sì sì però direi che veramente questi sono dei contenuti originalissimi una festa così ragazzi ogni anno vi superate per le idee per le innovazioni perché tutto quello che ruota intorno alla birra a volte rischia di essere come dire sempre uguale invece trovate sempre degli spunti nuovi su cui lavorare e cose nuove e belle originali da proporre alle persone quindi in tanti miei complimenti ok passiamo alla terza novità che non sono ancora finite la terza novità è che abbiamo pensato di creare un piccolo contest con le gelaterie di fano per pensare di premiare il gelato alla birra più buono di fano allora vi dico quali sono le gelaterie che da dal 7 agosto al 14 agosto presenteranno il gelato sono la gelateria ma chi la gelateria pinot bar e la gelateria bonbon devo dire dei nomi che si presentano di tutto rispetto quindi questi giorni la gente può andare direttamente anche in queste gelaterie e chiedere il gusto che hanno preparato appositamente per birra ad augusto esatto e in questi giorni quindi dal 7 al 14 in queste tre gelaterie andranno delle persone che ovviamente non diremo che sarà la nostra giuria la nostra giuria popolare quindi non un giudizio tecnico popolare segreta segreta assolutamente segretissima e che decreterà il gelato migliore che poi premeremo la serata del 14 tra la prima e la seconda band con una targa io direi che non possiamo perderci nessuna serata di questa edizione 2024 assolutamente no 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 ogni serata c'è qualcosa e quindi ogni serata va vissuta bene vogliamo ricordare gli orari quando si può arrivare quando comincia la festa allora il villaggio il villaggio della birra come l'abbiamo chiamato quest'anno il nostro villaggio della birra aprirà alle ore diciotto quindi dalle diciotto alle a mezzanotte e mezza il villaggio sarà aperto e i momenti culturali parteranno tutti alle otto però già all'area bir relax dalle diciotto e trenta è aperto fantastico quindi diciamo già dal tardo pomeriggio dal tardo pomeriggio anche un po di mare una piccola scampagnata una passeggiata in città beh io direi che veramente più di così non si può chiedere a una vacanza anche i fanesi possono dire di essere in vacanza al villaggio della birra assolutamente diciamo che è per tutti non abbiamo parlato della musica ci manca anche la parte musicale abbiamo appena accennato che ogni sera ci saranno dei gruppi chi suonerà quest'anno allora quest'anno per le cinque serate si alterneranno 10 band quindi due gruppi a serata partiremo il 10 con i dress e a seguire i the perticars dopodiché l'11 avremo i made in italy e cash the giant il 12 di agosto avremo i the python e gli e cover time il 13 the bright side e pianeta liga il 14 vitamina c e concludiamo con gli hbh band beh qualche nome mi sembra di averlo già sentito sono dei fedeli ospiti altri sono delle novità quindi anche qui non dobbiamo perdere nemmeno le serate a questo punto ci rimane di parlare delle birre esatto quindi scopriamo scopriamo quali sono le birre le birre e il food e il cibo che saranno con noi perché non si può solo bere ogni tanto dobbiamo anche assaggiare qualcosa ma con molto piacere perché è tutto molto buono chi ci parla del food chi ci parla del ah allora vicepresidente tocca a lei allora quest'anno avremo la presenza di 12 birrifici artigianali di cui 7 marchigiani proprio per il sostegno al territorio per quanto abbiamo detto prima di questi birrifici marchigiani due giochiamo qui in casa sono proprio qui di pesa dove sono 61 100 gli alchis poi abbiamo da cantiano il birrificio del catria abbiamo collesi da pecchio ormai un'istituzione abbiamo da castelvecchio il birrificio angeloni anche lui un'eccellenza marchigiana vero ci spostiamo un pochino più a sud rispetto alla nostra provincia andiamo ad arcevia con il birrificio dei castelli e abbiamo anche da monrovalle quest'anno dal nostro macevatese il birrificio sotis una delle tre novità ecco cambiamo come si dice squadra che vice non si cambia però qualche ogni tanto qualche novità qualche novità ci sta come con i gruppi abbiamo portato anche tre novità nei birrifici questo per quanto riguarda il territorio marchigiano poi abbiamo per rapportarci anche con il resto d'Italia altri birrifici che vengono da fuori regione abbiamo dal Piemonte abbiamo il birrificio della Granda e la Brassevia Alpina ormai presenti da noi da parecchio tempo fedelissimi e sempre richiestissimi abbiamo Birbante scendiamo verso il centro Italia nella pianura padana dal Parmense il Birbante che è una delle tre novità la seconda e sarà uno stand diciamo un pochino particolare perché non avendo troppo spazio abbiamo iniziato a subparcare andiamo in alto andiamo in altezza andiamo quindi sarà una novità da dover venire a vedere abbiamo Basta Ambiraio la terza novità che viene dal cuore della nostra nazione dall'Umbria provincia di Perugia e in più abbiamo il birrificio dei fratelli Trami da Brescia quindi ci spostiamo su verso la Lombardia Trami pluripremiato anche loro quindi tutte eccellenze tutte da provare troviamo diverse gradazioni diversi tipi dalla chiave classica più tipi di IPA e double IPA gradazioni che vanno dai due gradi e mezzo tre gradi arriviamo fino ai dodici gradi quest'anno quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutti i palati questo per quanto riguarda le birre per quanto riguarda invece i food truck gli stand del cibo saranno 9 abbiamo la piadina come ha detto prima il nostro presidente gestita dalla nostra associazione con farcita con prodotti tipici tutti del nostro territorio quindi prosciutti salsicce salami tutta cosa del nostro territorio poi abbiamo come al solito non poteva mancare Giovannino il re dell'arrosticino con le sue file chilometriche abbiamo Ray Grill con la sua braccia via che fa prodotti tipici abruzzesi la frittoria che è un ragazzo di Fano quindi gioca in casa anche lui con le sue tipicità fritte in più abbiamo Big American che fa gli hamburger con Black Angus quest'anno porterà anche il Pulled Pork quindi una nuova nuova ci sarà la fila ci sarà la fila anche lì e i Corn Dog il classico Wuster nello stecco fritto ecco pure fritto non bastava che cosa dobbiamo fare tutti abbiamo l'RS Street Food che ci porterà delle tipicità a base di pesce quindi sia carne che pesce troviamo di tutto abbiamo il nostro amico Maurizio con la sua Toscana in tavola con la sua Braceria che ci porta le sue Fiorentine le sue Tagliate lo Spiedo Toscano quindi anche lì avremo della colina in bocca e abbiamo un'azienda sempre del del sud del sud della nostra regione come sede la unico che fa ci porta due stand uno con tipicità siciliane di salato gli arancini e un altro con il dolce cannoli siciliani granite in più abbiamo i ciurro spagnoli pazienza abbiamo di tutto abbiamo di tutto abbiamo ci tengo a precisare che queste aziende sono la maggior parte aziende di persone della nostra regione selezionate appunto da noi perché per rimanere sempre nello stesso discorso di prima di sostegno al territorio ma che hanno diciamo scelto di improntare la loro azienda con per supportare quelle che sono le loro tipicità regionali delle delle loro regioni di origine quindi abbiamo il siciliano che ci riporta i suoi prodotti il pugliese è uguale sì è un mondo dove la birra effettivamente unisce unisce i popoli unisce i menù perché abbiamo visto che sempre più questa birra viene declinata non soltanto come si diceva una volta con la pizza ma adesso anche con la carne con il pesce con le verdure l'unica attenzione è per chi è celiaco perché mi raccomando attenzione la birra contiene glutine ma ci sono anche delle birre che vengono prodotte con dei cereali che sono naturalmente senza glutine come per esempio il sorgo oppure che vengono vengono realizzate delle operazioni per togliere questo componente che potrebbe dare fastidio a queste persone per il resto la birra è veramente molto versatile quella artigianale poi lo è ancora di più e vediamo in questa occasione come siete voi bravi a valorizzare il territorio le birre artigianali e quindi anche le tipicità di ogni regione quindi direi che il nostro appuntamento è soltanto adesso da prendere penna agenda o fare un cerchietto sul calendario dal 10 al 14 di agosto amici andiamo tutti a Fano e tuffiamoci in un mare di birra e tuffiamoci in un mare di birra che è lo slogan che viene scelto dall'associazione Fortuna Dea e direi che non ce n'è uno più bello di questo un augurio per una buona estate un augurio